Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Riccardo e benvenuti sul mio canale, oggi siamo con un mio amico, saluta! Siamo in... siamo nella MC e siamo per sfidarci! Allora, io tengo 3 kill e lui una e dopo andremo a fare anche una coppia e dovete sapere che l'ho fatto pure di Noscop prima dovete sapere, ma proprio da un metro ho la cosa da pro e poi nella box fight l'ho fatto due volte a piccone cioè, non posso farvi vedere le clip di ste cose perché non le ho fatte stupido come è? si, sei su youtube vai, vieni fuori ti ricordo che non posso fare le live perché youtube non me l'ha permesso, non so perché porca miseria o se ti prendevo basta con ste granate a urto ma no, non facciamo nessuna sfida facciamo la MCG normale intanto, non ho le aimbot anche perché l'ho mancato barona se ti prendevo col bomba vieni vieni troppo tardi ragazzi, ma che era? l'ho battuto in box fight perché abbiamo fatto ballare gine e ho vinto io poi ma lo sto battendo in un video ma che è? cioè, proprio alla sfortuna quando si dice la sfortuna eh sì, appunto, prendete il pompa del nonno perché con quello io sto usando è la miseria, oh wow però voglio dire parolacce nei video perché vabbè ragazzi questo canale non sarà family friendly l'ho già detto tante volte quindi ah, maronna che male madonna santa oh ma che? hai le aimbot? no, 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 no perché non ho fatto 10 certo, no, no, no no, no, no eh? io non ho niente per per utilizzare per aiutarmi quindi non ho le hack non ho niente quindi eh, fa buon viaggio oh dove, dove? guarda quanto, quanto vieni vieni ora passa ma che? sono più forte io ragazzi come mi dai come voto? eh, perché io ho 6 kill e tu una cioè, stiamo scherzando cioè, 5 perché una non valeva perché ne abbiamo fatto un paio anche off camera oppa la oh caronna tengo uno di scudo ok, ora no mi so curato no, ho preso il perilma pesce sì, perché va benissimo vale oh, porca miseria porca cacchiarola 92 di vita aiutatemi ok ok oh, porca è seria no, vabbè dai ci sta perché almeno ha 2 kill dai non sì, sì, sì proprio mi scommetto una vittoria reale oh, tiè, 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 tiè 20 di vita ok full vita yes ciao guardalo ha solo paura ah, ok ho capito ho preso ma passa no no non è si so sei bra ho Oh Aspetta mi sta laggando Zio 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 mi stava laggando Quante heal hai? Io ho il doppio Mia madre che ascolta Alexa Va bene Oh Perché hai lei in botto Cioè mi hai fatto tutti i headshot Eh no perché mi hai fatto tutti i headshot Cogno pezzano che vai lì Vai 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 Ti ho preso Guarda che sicuro Porcellino Oh Oh Come si Ma E Eccomi Dai si va buono Ragazzi oh ma nei video si impegna lui Ma io sennò glielo dicevo Che era nei video Ma come io ho visto la tua testa? Perché non ti ho fatto il nosco Per una da messa Il vento Forte Aspetta che devo chiudere il balcone Aspetta un attimo Che sennò mi prendo tutto un freddo cane Ok Ok Si ho chiuso ma Ok Canta Godzilla Ragazzi Valete vedere come lo faccio a piccone? Oh no 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 Ok Uh Curato Ok C'è un'oc 보�o ora basta però mi sono scocciato nooo io non ci credo ragazzi mi ha fregato all'ultimo ma posi l'anima maledizione eh che è successo vabbè dai no facciamo che si arriva a 20 mi sto troppo divertendo quindi copie e annullate no no No, 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 no. Bentiti di vita precisi. Ragazzi, oh, io sto giocando contro un pro, eh, è giocato la season 2, questo. Eh, season 9, oh, bu. Ancora peggio. So, season 2, capitolo, c'ho. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo. Bella quarantena! Oh, il potere di Thor! Oh! Ti ho fatto lo scopo! Due di vita, ti giuro! Due di vita! Due di vita! Come li mangia, mangia, mangia! C'avevo due di vita, ti giuro. L'aurrano visto il fan. Aiuto! Due di vita! Mi ha fatto pure a piccone, ragazzi. C'è, proprio... Eh? Incredibile, eh? Ti faccio vedere, è rimontato. Guardalo! Passa! Passa! Passa, 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 passa. È pure preso! Come non ti ho preso, ma dai! Aspetta, ma! Io non ci credo, ragazzi! Aspetta, ma! Aspetta, ma! Ma, ma, aspetta! No, ma, ma! Oh! Sto facendo un video, punto e basta! Allora, ragazzi. Scusate, ma, mia madre mi deve sempre rompere le scatole. Quando faccio i video, ogni santa volta! Oh! Sì, non è giusto! Non è giusto che tu mi distrai nei video! Sì! Sì, ma buono! Pure tu, però! Mia madre mi sta... Mi sta rompendo le scatole! Ah, aspetta, ultima kill, andiamo a farla. Sì, vittoria! È viva! In tutte e due le mappe ho vinto io, è viva! No, ma chi vince? Allora, facciamo chi vince, questa vince tutto! No, ma chi vince tutto! Sì! È giusto! C'è vera, c'è vera, c'è vera. ah non mi ricordo stavo per dire la tua stessa si sono un moge 45 no maledetto guardalo che sicura ragazzi scusate per gli urli ma questa proprio guardalo che sicura guardalo mio ora se lo puscio mamma mia se lo puscio oh eh si ma buono no no questa non vale avevo pochissima vita beh forse non ci ho pensato eh si con l'assalto vabbè sono la stessa cosa ma ma è ma ma è è è è è è è si no no erano tutte le armi in ricarica no stop un'altra e basta però questa sul serio non vale sparare in aria perchè mi togli già la vita vittoria evviva ok una coppia ragazzi e poi mi devo andare a lavare vabbè ragazzi torno subito mamma mia ok eccomi ragazzuoli con la macchinetta dai metti coppia brava riccardo sonia santoriello sonia santoriello i primi due canali i primi due canali sono i miei attenzione no è una fotoprofilo non la so fa i primi due canali sono tutti e due miei eh lo so ma non ti mutare in continuazione però non è da me sta per piovere oh anzi sta piovendo oh ecco si lo vediamo dopo va bene no vabbè ce l'ho come la vene gate ma stai scherzando te io mi ammazzo cioè io la voglio uffa no no andiamo andiamo a borgo andiamo a borgo a borgo bislacco borgo bislacco mi ricordo che lui deve fare la terza metà eh perchè ho iniziato a giocare dopo una settimana questa nuova season perchè eh avevo problemi di connessione da che season giochi? season 9 ok no 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 ti arrivo qua troppo tardi no vieni qua subito cacchio e io ho due nuove sta per per la piccola corri la ho tirato a casa ok un nuove sta a terra e lo finisco anche ok finito l'ho finito l'ho finito aspetta no parla il fucile a pompa più altra cassa vedete l'ho finito l'ho finito l'ho finito arrivo arrivo erano tutte armi buone arrivate niente le cose da me c'è un delirio oh l'ho fatto! Un'altra volta che non ci credo! Eravano tutti e due al dietro e ci spugli, io non ci voglio credere! Ok, ora facciamo coca! Anzi, mi devo fare pure il madeback! Quello è il mio da quell'assalto eh! No no ce l'ho già io il pompo aperto! Ma che mangio di le torte? Ok gnammo! Insomma! Oh no ce l'ho mai! Ma no dai è il pompo! Ok, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto! Ancora bombe! Oddio santo, ancora! Basta! Faccio una festa! Un giù il snubbo! Un giù il snubbo! Oh no! Eccosi! Un giù il snubbo ho incontrato! Ok! Oh no! Corri! Eh! L'ho lanciato alla granata! Non dire queste parole! Aspetta! No no no! Non ora! Oddio santo! Aspetta! Ha dato qualche granata per sicurezza per vedere se c'è qualcuno! Niente! Abbiamo fatto piazza pulita! Abbiamo fatto ragazzi! Silvini! La mia salvezza! No! Mitraglietta tattica! Oh! Mitraglietta tattica blu! 快alietta tattica blu! Chissade pulita pulitauchen blu! Sì! C'è uno qua! Dipara! Ora! Sì, sì, qua, qua, qua Vieni subito All'istante Oh, oh no Oh, è il potere Il potere di Wolverine Il potere di Wolverine Prendi il cecchino Prendi il cecchino prima Prendi Prendi la scala d'altra Prendi la scala, vabbè Oh, madonna santa Eh, lo so Metti pronto, dai Ultimo battuto, roghiato Sonia Santoriero Ma metti pronto, metti mo' pronto No, no, aspetta Facciamo l'ultima partita L'ultimo battuto royale Va bene Andiamo da Wolverine Però il tosso è un milione di vite E si può rigenerare Quindi lo dobbiamo mettere a terra E uccidere subito No, io ti seguo Perché Wolverine Potrebbe essere da ogni parte Oh, porca Miserio, vero Siamo nella cacca secca Ragazzi, ve lo dico No, siamo nella cacca secca Non è una borraccia Oh, madonna Dai, vieni, vieni, vieni Bende Ah, niente Prego Eh, dove c'è una da me Tengo solo delle bende Vabbè T'hanno messo pure a terra Io il vampa No, no, aspetta Aspetta Aspetta, aspetta Va bene Va bene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao